Allora, sono qua in Solidox e ho questo pezzo e vorrei tagliare solo quella linguetta, quel pezzettino da qui a qui, ma farlo in modo più semplice possibile senza pensare troppo. Allora, un metodo a mio avviso è usare questo comando dividi che è molto molto interessante, però per far questo io devo creare un piano, ok, che mi farà da utensile da taglio insomma, ok, specie, ok. Dunque vado a inserirci geometria di riferimento, dunque qua geometria di riferimento, piano, schiaccio qua perpendicolare, ok, metto qui e metto qui, ah, non ce la faccio, perché vertice vertice, vediamo se dovrebbe farcela, no, ahiaiaiaiai, perché non ce la faccio? Vediamo se prendendo questo nemmeno, come verrà che l'avevo preso, eh, io prendo perpendicolare, lo facciamo così, prendiamo un piano, ok, prendiamo l'altro, sto provando, e, 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 però devo farlo passare per l'asse, dunque vado a visualizzare gli assi, se si vedono, ok, però, e dunque faccio passare per qua, però non lo fa, allora tolgo via un vertice, ok, un asse e un vertice, te pensa, ok, vabbè, vabbè, comunque, va bene, ok, 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 a questo punto schiaccio, ok, a questo punto vado a tagliare, ok, e vado a usare il comando dividi, qua io, vediamo su funzioni, non ce l'ho, allora lo richiamo qua, dividi, ok, e stiamo attenti qua sul dividi, che è interessante, il strumento di accorciatura è questo, piano, questa faccia, e questa faccia qui, io, però, non voglio creare tanti corpi, perché dopo dovrei unire, non voglio perdere tempo, voglio solo tagliare questa linguetta qua, ok, allora io faccio corpi selezionati, vabbè, tutti i corpi, ne ho uno solo, taglia corpi, lui mi crea tutti i corpi possibili, però io voglio eliminare, dunque metto elimina, perché così me lo toglie, però faccio creare solo un corpo, solo quel pezzo lì, questo no, vado a cliccare qua, questo, il secondo, e dunque lui mi va a creare, perché gli ho detto qui che crei il corpo, e poi qua gli ho detto elimina il corpo, ok, e dunque schiaccio qua, e mi va a eliminare il corpo, va bene, a questo punto sono a posto, l'ho fatto in modo molto, 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 molto veloce, senza, potevo farlo anche tranquillamente, magari con rivoluzione, però avrei perso tempo a ragionare quanti gradi, insomma, diventava un po' una menata così, molto, molto veloce, senza pensarci, ok, ci vediamo alla prossima, arrivederci.